E' una delle due giocatrici americane che quest'anno faranno parte della Foppa Pedretti, bellissima anche lei naturalmente vestita da sera, sono quasi delle fotomodelle. Intanto benvenuta, welcome in Italy e welcome in Bergamo. Grazie, I got the benvenuta part. I due mesi di lavoro, come vanno le cose, com'è la squadra? Si trova molto bene con le ragazze, la squadra sta lavorando in modo molto pesante, ma lei si sta trovando bene e stanno facendo un gran lavoro. E qui c'è una grande tradizione e quindi sapevo di poter venire in una squadra con una grande storia e di poter far bene. Buona fortuna, good luck. Grazie.